partite le cavalle del sinni cogli un brutto break occorre gret che comunque lì a contatto allo steccato ci va giustamente charlene royal che ha colto un buonissimo break si trascina in seconda posizione painting pictures poi qualche colpo all'interno del gruppo ballot box che ha preso lo steccato marching on together, tatapila pettirosso, occorre gret e poi a chiudere macawe charlene royal ha preso 2-3 lunghezze di margine in maniera molto brillante e veloce lungo lo steccato e capeggia rispetto alle rivali che sono all'inseguimento painting pictures poi ballot box, pettirosso già sostenuto con regretto a seconda linea marching on together e tatapila che cercano di impegnarsi ma a 400 dal palo charlene royal accelera ulteriormente adesso ha 5 lunghezze almeno da gestire rispetto alla seconda che è ballot box e prova a venire avanti, 200 dal palo charlene royal è ancora in avvantaggio charlene royal che a questo punto deve solo gestire e controllare perché c'è un canter pubblico e ancora quello di charlene royal che allunga ulteriormente scava un fossato tra sé e gli avversari emerge per il secondo ballot box e poi per il terzo tatapila ottimo il rientro di charlene royal la ZBD ha la terza affermazione in carriera la quota al tot di 2,45 in sella c'era Alessio Satta che ha gestito la sua maniera impeccabile il training è quello di Simone Langiano i colori sono quelli della Colle Papa sfruttato al meglio lo steccato per il secondo posto dunque ballot box quindi 3-2 e per il terzo posto 8 di tatapila è tutto per il Sini Grazie Grazie